we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mamma mia nuova patch ieri o meglio nuovo aggiornamento della patch 9.10 che ha portato ovviamente la nuova mitraglietta a raffica e ahimè ha tolto la mitraglietta compatta ragazzi una grandissima perdita a parer mio togliere la la mitraglietta scusatemi tattica no la compatta era la p90 mi è dispiaciuto tantissimo che l'abbiano tolta ma tra le cose che ovviamente sono state inserite ci sono tanti piccoli particolari uno di questi ve lo voglio far vedere relativi ovviamente all'evento di picco polare nel video di oggi ragazzi parleremo appunto delle novità ancora nascoste che sono relative a picco e di una teoria abbastanza interessante e mi è tornato raga è tornato ai sky ai sky il pazzo ne avevamo già parlato qualche settimana fa sapete tutto il casino mi si è ubriacato la sky nella casa dei face hanno fatto su tutta la denuncia è tornato più cattivo che mai mi ha fatto la porcata che gli è costata ragazzi la partecipazione alle world cup e molto probabilmente anche la cancellazione del canale e poi ragazzi ovviamente questo pomeriggio le sfide della settimana numero 4 le andremo a vedere subito insieme per affrontarle ovviamente al meglio ma prima però voglio ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per sostenermi e per sostenere il canale mi raccomando iscrivetevi in tantissimi e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima come vi ho detto prima la domandina ve la devo fare ragazzi ci tengo tantissimo ai vostri commenti proprio qua sotto e dai non ve la devo neanche dire l'avete già capita ragazzi qual è la domandina di oggi ma te come ti sembra la nuova mitraglietta raffica raga è devastante cioè nel senso è ratatata 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 4 colpi alla volta a scariche una dietro l'altra ragazzi una potenza di fuoco notevole perché sono 23 danni a hit il che vuol dire che sono un potenziale di 96 danni dovessero entrargli tutti e quattro i colpi velocissima a ricaricare pronta subito all'azione ragazzi arma sicuramente positiva non è una cagata penso anche arma che verrà nerfata almeno così si dice ed effettivamente è veramente molto molto potente ditemi però ovviamente le vostre opinioni qua sotto nei commenti perché ci tengo tantissimo a saperle ma quindi ciancio le bande e bando alle cianci andiamo subito a vederle ragazzi le sfide della settimana numero 4 non c'è niente di così esagerato ragazzi dobbiamo semplicemente fare danni con il fucile da cecchino agli avversari per un totale di 500 dobbiamo danzare per la prima fase dentro un pomodoro olografico abbiamo già capito dov'è dovremo danzare dentro un dur burger olografico e dovremo poi danzare sopra una dumping head che dovrebbe essere la testa dell'omino raviolone credo quella che c'è ad approdo avventurato ovviamente vi farò tutti i video relativi entro questo pomeriggio che vi permetteranno di completare al meglio le sfide abbiamo anche quella di distruggere loot carrier dovrebbero essere se non ricordo male quegli aggeggi che hanno inserito nella patch precedente che ci portano il loot extra nei punti segnati in giallo della mappa quindi basta semplicemente distruggerne un quantitativo fare tre kill con armi leggendarie atterrare in un sacco di posti picco polare laguna languida salti spring che è atterrare al bloc atterrare a luna e luge e avremo finito anche questa e poi eliminare avversari nelle montagnole maledette oppure al dusty divot quindi a sprofondo stantio e visitare location differenti quindi niente di esagerato per queste sfide che vi ricordo non dovrebbero dare nulla cioè non c'è la stella segreta infatti o lo standardo in questa settimana sapete che questa season ha le cose alternate ma andiamo avanti ragazzi e parliamo di una figata incredibile me ne ero assolutamente dimenticato ragazzi guardate che meraviglia ovviamente avete capito godzilla king of the monsters sta per uscire il film il sequel di godzilla questa che state vedendo ragazzi e quelle altre là in alto sono xbox sono xbox che potrete vincere voi ragazzi sono davvero meravigliose super edizioni limitate che xbox stessa microsoft mette in premio semplicemente ragazzi facendo un retweet del loro post su twitter quindi vi invito ad andare a seguire ovviamente la pagina ufficiale di xbox per fare un retweet lo troverete subito e quindi avere una chance magari di essere estratti e di portarvi a casa quel bellissimo gioiello collezionabile ma andiamo avanti ragazzi ed eccolo qua ovviamente quello che è sulla bocca di tutti in questo momento l'occhio gigante ne abbiamo già parlato abbondantemente ragazzi volevo solamente aggiornarvi su alcune cose innanzitutto sappiamo che l'occhio gigante ha una diatriba nel senso alcuni dicono che un leviatano enorme altri dicono che invece potrebbe essere l'occhio di un drago di un dinosauro anche se in realtà l'evento si chiama cattus e cattus in latino vuol dire gatto ma non penso abbia molto senso anche se perché chiamare un evento cattus nel senso quindi potrebbe essere anche un felino gigante non lo sappiamo ma ragazzi la cosa interessante è che se andiamo a vedere i fortbite sapete che nell'immagine che verrà composta da tutti i fortbite come hanno detto ufficialmente quelli di epic games ci sarà il segreto della season 9 abbiamo già scoperto alcune cose qua di fianco ad esempio l'occhio proprio quello che stiamo vedendo in questi giorni là in alto addirittura c'è il cubo sopra di me si vede pinnacoli che viene colpita dai meteoriti e ovviamente in centro john c jones che come vedete ragazzi è anche sporco di una specie di liquido rosa che ancora non si capisce bene però liquido che colpisce anche il cubo la cosa interessante è nella parte che ancora non si vede quella tutta alla mia destra però io ho comunque l'immagine e apparirà ragazzi questa sezione di fortbite stiamo vedendo ragazzi un mostro che esce da picco polare almeno questo è quello che viene detto ed è molto probabile che sia veritiera questa cosa ci vede proprio l'occhio perché ne ha uno solo anche se è un po strano perché sappiamo che l'occhio gigante nei file di gioco è chiamato left high quindi occhio sinistro il che vuol dire che presumibilmente potrebbe esserci right high quindi un occhio destro magari non della stessa creatura non lo sappiamo ma stiamo pronti ad aspettarci ovviamente qualche cosa che esca e per chiudere ragazzi io non potevo non poteva intanto interessante anche questa immagine che ci fa vedere il laghetto ghiacciato che la parte del ghiaccio somiglia davvero molto all'impronta di un dinosauro quindi tenete a mente anche questo ma ragazzi lui eccolo qua applausi per ix sky ragazzi grande abbiamo visto il pazzo di ix sky che mi si è ubriacato a merda nel festino che hanno fatto quelli dei phase in nella phase house in california per festeggiare il suo ingresso mi si qualifica l'ix sky alle world cup viene fuori il disastro mi bara sull'età ragazzi ix sky non ha 12 anni ix sky ragazzi ha 11 anni e voi dite minchia già era un cuccia latte a 12 anni a 11 è un disastro per le leggi californiane non può essere messo sotto contratto nessuna persona che non abbia ancora compiuto i 12 anni di età ragazzi e quindi il disastro è che essendo lui americano e ricevendo degli introiti per avere il canale rischia innanzitutto l'anno squalificato delle world cup cioè non può partecipare alla world cup perché il regolamento dice appunto che l'età minima è 13 anni addirittura ma il problema è che anche il suo canale sia twitch che youtube potrebbero essere cancellati proprio per questo motivo essendo lui la figura principale che percepisce il grano quindi ragazzi like sky mi si ubriaca a merda mi fa il baro sull'età ci aspettiamo tutti adesso che mi faccia la tripletta magari dicendo qualcosa che nessuno si aspetta beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche oggi il video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 13 live ciao